Gentili telespettatori, buona giornata. Eccone un'altra di Burioni. Roberto Burioni, noto virologo. Beh, caspiterina, io ricorderò sempre, ce l'ho qua davanti gli occhi, quando lo vedo la prima volta in televisione, seduto su una sedia, una conduttrice che non ricordo chi era gli dice Professore, qual è la probabilità che il Covid arrivi in Italia? E lui, zero. Da lì io vi posso dire, virologo è il suo lavoro, ha studiato virus, pandemia, queste cose qui. Credo che anche un bambino dell'asilo capisca, senza aver studiato niente, che se c'è un'epidemia che dilaga in tutto il mondo, non si può pensare che la probabilità zero che arrivi in Italia, cioè è un controsenso, è assolutamente un controsenso. Ma lui è il noto virologo che ne ha combinate in questi mesi diverse, no? Nicola Porro le ha evidenziate, no? Dice una cosa, poi ne dice una opposta, secondo cambiano le cose, lui cambia le cose che pensa e che dice. Insomma, il noto virologo. Adesso poi in televisione intanto fa le lezioni stile università in televisione, mi vengono i brividi. Zero la probabilità, no? Questa volta scrive un post e poi lo cancella, facendo il punto della situazione sulla variante Omicron, il noto virologo. Dice, la gravità, scrive, la gravità tende al bello. Scriveva Roberto Burioni sul suo profilo Facebook. Medical facts. Quanto scritto dal noto virologo, però qualche traccia in rete l'aveva lasciata dal momento che si era subito diventato trend topic, ossia argomento di tendenza. Scriveva, Nella totale incertezza il barometro della gravità dell'infezione causata da Omicron tende lievemente verso il bello. Per chi è pratico di calcio, vinciamo 1-0 contro il PSG al diciottesimo del primo tempo. La partita è aperta, ma potremmo già essere sotto di tre gol. Invece siamo avanti. No? Fa anche le metaforone, eh? Ma Trendsmap è un sito che cattura i post più cliccati con le maggiori interazioni. Li memorizza. Cosa avrà voluto dire il noto virologo Burioni? Con questa paragone con il calcio, dice, la variabile Omicron non sarebbe così pericolosa come si pensa. Anzi, la squadra Omicron è forte, paragone con il Paris Saint-Germain francese. Potremmo già essere surclassati di gol, ma siamo in vantaggio. Tradotto, con l'aiuto fondamentale dei vaccini alla variante che sembrava provocare meno ospedalizzazione di Delta, è comunque una malattia più lieve, possiamo ritenerci fortunati. Ecco perché siamo in vantaggio e stiamo vincendo. Poi, molti utenti sotto questo posto non hanno compreso la metafora calcistica, chiedendo l'Umi allo studioso, il quale con la solita ironia che lo contraddistingue ha fatto intendere che fosse molto chiaro il significato di quello che aveva postato. Attenzione, però, il viorologo ha esordito specificando che ci troviamo nell'altotale incertezza. La premessa, forse, per non essere attaccato da chi, numerosi altri colleghi, invece sostiene che la variante Omicron sia pericolosa. In ogni caso, comunque, l'inizio di questa partita sembra essere quindi favorevole alla medicina, alla scienza, all'umanità, se siamo in vantaggio, 1-0 contro un avversario così forte. Dice, potevamo essere sotto di tre gol. Bene. Poi cancella. Cancella tutto. Perché la variante Omicron comunque sta facendo tantissimi contagi. Ma perché è più contagiosa? È tre volte più contagiosa della Delta e quindi fa più contagiati. Ma fare più contagiati non significa che sia poi più pericolosa. Quindi, perché deve cancellare un posto? Bene. Dice, la variante Alpha, quella inglese, è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alpha. Omicron è diverso da Delta. Dunque, quanto affermato contagio efficace a vaccino per una variante può non essere vero per quella successiva. Non è incoerenza, ma scienza. Burioni poi ha specificato come le conoscenze si aggiornino in tempo reale proprio grazie ai progressi scientifici, mentre 30 anni fa non avremmo visto nessuna variante, nessun vaccino. Avremmo solo contato la tragedia. Usare la forza della scienza per instillare sfiducia in ciò che sta salvando la vita è da persone non a posto, dice. A quanti gli domandano cosa accadrà dopo Omicron, quali e quanti nuove varianti potranno comparire, il professore risponde come al solito. Dice, nessuno può sapere se e quando nuove varianti compariranno. Nessuno può sapere le caratteristiche, buone o cattive, di queste nuove varianti. Per conoscere queste cose non dovete rivolgervi agli scienziati, ma agli astrologi, che vi calcolano pure l'ascendente, conclude. Nel bene o nel male, pur con le poche interviste concesse su Rai3, ad Affazio, il Viorgo riesce sempre a far parlare di sé. Speriamo che il post scritto e poi cancellato da Facebook che sia di buon auspicio per vincere la partita contro Omicron e uscire definitivamente dalla pandemia. Quindi questo stimato, noto virologo fa ed isfa, scrive, cancella, dice una cosa, poi ne dice un'altra. Probabilità che il Covid arrivi in Italia, zero. Questo veramente non me lo posso dimenticare, zero. E poi lo chiamano a pontificare continuamente in televisione. Io credo che anche il più ignorante di vaccini e di pandemie non avrebbe detto probabilità zero. Io, sentendo queste cose, non credo assolutamente a questa persona, a quello che dice. E poi, questi virologi, quello che crede che Omicron è pericolosa, quello che crede che Omicron non lo è. Insomma, ma non si può andare a credere, perché non va bene questo tipo di comunicazione scientifica. dovrebbero le televisioni non invitarli più, ma fanno a gara invitarli per farli litigare con altri, fare audience e guadagnare sulle pubblicità. Triste, ma è così. Arrivederci a tutti e grazie.